core com le indipendenze digitali in toscana i spot 2023 il bando scade il 15 settembre i partecipanti residenti in toscana possono inviare video della durata massima di 60 secondi convivere carrara festival edizione 2023 dedicata al tema dell'umanità dal 7 al 10 settembre più di 20 incontri di parola tra conferenze dialoghi e dibattiti sei spettacoli e oltre 30 eventi collaterali scandici open city rassegna al massimo livello in toscana ha presentato il cantiere della meraviglia la manifestazione organizzata dal comune di scandici con oltre 160 eventi e 28 associazioni coinvolte il tema del contrasto alle dipendenze in rete dai social network ai videogiochi è protagonista del progetto toscana in spot 2023 in dipendenze digitali promosso dal comitato regionale per le comunicazioni corecom per partecipare al bando c'è tempo fino al 15 settembre la finalità è consentire in particolare alle nuove generazioni di esprimere attraverso il linguaggio audiovisivo un messaggio sui pericoli delle possibili dipendenze e dei disturbi psicologici e fisici che i media digitali possono generare il corecom premierà i tre migliori spot audiovisivi realizzati sul tema del contrasto alle dipendenze dalla rete e più in generale dall'universo digitale sono ammessi alla sezione spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori o persone fisiche che abbiano residenza in toscana il primo premio è di 5.000 euro al secondo andranno 3.000 euro e al terzo classificato 2.000 euro per il presidente del consiglio regionale antonio mazzeo si tratta di una iniziativa davvero importante una nuova iniziativa davvero importante un messaggio che il corecom nuovo guidato dal presidente meacci vuole mandare con forza indipendenze digitali è un modo per dire alle ragazze e ragazzi anche i rischi connessi all'utilizzo al sovrautilizzo dei social network la pandemia ci ha resi tutti più iper connessi ci sono tanti punti di forza la possibilità di lavorare a distanza la possibilità di sfidare il futuro ma ci sono anche tanti rischi ed è bello sapere che questa iniziativa tende a premiare i tre progetti migliori che possono mandare questo messaggio allora l'educazione digitale l'educazione civica è un pezzo del lavoro dell'assemblea legislativa e voglio ringraziare il corecom per averci creduto da subito e per aver lanciato questo progetto mi auguro davvero che tante ragazze e tanti ragazzi toscani possano partecipare e che i progetti come negli anni precedenti possano essere di altissima qualità. Tema di grande attualità così lo ha definito il presidente del corecom Marco Meacci. Sì come corecom abbiamo subito indetto questo bando e questo premio legato proprio al tema delle dipendenze digitali crediamo un tema di grande attualità di grande importanza che riguarda le nuove generazioni ma riguarda in generale un po' tutte le generazioni il bando la scadenza la data sarà il 15 settembre ci sarà la possibilità di partecipare attraverso dei video della durata massima di 60 secondi dove i giovani ma non solo i giovani potranno partecipare ed esprimersi attraverso il proprio linguaggio attraverso il linguaggio audiovisivo proprio su questo tema. Crediamo che sia un tema di grande attualità perché insieme alle grandi potenzialità dei video dei social della rete poi c'è anche un tema di sovrautilizzo di abuso di questi strumenti per cui noi vogliamo consentire di mettere al centro di attenzione questo argomento attraverso questi video che poi faremo girare i primi tre saranno premiati con alcuni premi economici di 5.000, 3.000, 2.000 euro che poi faremo girare sia attraverso i canali social sia attraverso le televisioni sia ci auguriamo anche attraverso gli ambienti delle scuole. Sarà dedicata al tema dell'umanità l'edizione 2023 di Convivere Carrara Festival. L'evento che si svolge dal 7 al 10 settembre a Carrara ed è promosso dalla fondazione Cassa di Risparmio di Carrara vedrà più di 20 incontri di parola tra conferenze, dialoghi e dibattiti, 6 spettacoli e oltre 30 eventi collaterali tra laboratori di cucina, spazio bambini, mostre, incontri, passeggiate a tema, la scoperta del territorio e tra gli ospiti ci saranno nomi importanti come Stefano Massini, Alessandro Bergonzoni, Stefano Mancuso, Roberto Cingolani, Maurizio Ferraris, Telmo Pievani e Chiara Saraceno e poi ancora la musica dei Tiro Mancini, dell'orchestraccia e della talentuosa Frida Bollani-Magoni, un evento omaggio a Bob Dylan e uno spettacolo dedicato ai temi del cambiamento climatico con Elisa Palazzi e Stefano Taddia. Il festival è ormai una tradizione per la città di Carrara e per tutta la provincia, ha detto il consigliere regionale Giacomo Bugliani. Convivere è ormai una tradizione per la città di Carrara e per tutta la nostra provincia, un appuntamento culturale imperdibile che si è ormai imposto sul piano nazionale come uno dei festival più importanti per lo sviluppo della cultura e del pensiero. Gli orizzonti ormai che Convivere ha assunto sono orizzonti molto ampi che si ampliano e si aprono a esperienze anche molto al di fuori del nostro territorio e anche estere. Credo che sia doveroso da parte delle istituzioni dare a questo festival della cultura tutto il riconoscimento che merita perché ormai il nostro territorio si identifica in questa manifestazione che ogni anno riesce a toccare temi di grande importanza e di grande delicatezza. Quest'anno viene affrontato il tema dell'umanità colto in tutte le sue sfumature anche come profonda riflessione dell'essere umano e del rispetto del prossimo. Credo che ci saranno molti momenti importanti di riflessione e di discussione nella città di Carrara e che ci saranno anche molti importanti momenti culturali e anche piacevoli nel contesto di una città che nei giorni di convivere torna a vivere e a mostrare tutta la sua bellezza. La Toscana, ha aggiunto la Presidente della Commissione Regionale Cultura Cristina Giacchi, si conferma una terra ricca di eventi culturali radicati nei territori. È così, una bellissima rassegna che per 18 edizioni ha affrontato i temi più cari ma anche più alti alla riflessione sul nostro appartenere alle comunità, sul nostro vivere e anche sul nostro esistere. Negli ultimi anni si è avvalso di una consulenza scientifica di altissimo profilo, ogni anno cambiando il punto di riferimento e per quest'anno il tema scelto è umanità, un tema che sfida il nostro pensiero e ci spinge a riflettere su ciò che ci rende quelli che siamo. Lo fanno potendosi avvalere dei competenze di esperienze artistiche e culturali di altissimo profilo che per diversi giorni a Massacarrare e dintorni occuperanno la scena sollecitando i cittadini e aiutando una riflessione approfondita. Io credo che sia meritevole questa iniziativa perché non rinuncia a sfidare una dimensione pop di grande pubblico con una riflessione seria, alta, profonda e non sempre facilmente praticabile. Quindi questo coraggio rende loro onore e credo che dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per altre manifestazioni. Non è vero che i nostri cittadini e le nostre cittadine vogliono soltanto temi leggeri o disimpegno. È chiaro che la leggerezza e l'atmosfera delle rassegne estive è sempre piacevole, ma i temi importanti, i temi profondi che ci rendono quelli che siamo e che ci consentono di riflettere su questo sono cari a tantissimi toscani e toscane. Quindi io invito tutte le rassegne a lanciarsi, a non rinunciare facendosi bloccare dalla difficoltà o dall'asperità del pensiero alto e profondo. Ecco, Convivere lo fa, lo fa da tanto tempo ed è un grande successo. È un'edizione ricca per i 18 anni del Festival, ha aggiunto la direttrice del Festival stesso, Emanuela Mazzi. È un'edizione direi innanzitutto estremamente ricca di eventi, di iniziative, anche per importanza. Abbiamo mantenuto come la scorsa edizione le conferenze e i dialoghi, quindi gli ospiti saranno moltissimi. Cominceremo con Laura Boella, che è la curatrice di questa edizione. Proseguiremo nei giorni successivi con Stefano Massini, Alessandro Bergonzoni e Vera Gheno. Ho citato alcuni degli ospiti perché sono veramente tanti. Importante sarà anche il programma di spettacoli, che pervederà la conclusione con Tiro Mancino. La prima sera cominceremo con Frida Bollani-Magoni. Tutti eventi a ingresso gratuito, che animeranno per quattro giorni la città di Carrara. Soddisfazione per Enrico Isoppi, presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Diciottesima edizione, edizione della maturità, che andiamo a affrontare con l'entusiasmo di sempre. Un'edizione con un tema estremamente sfidante, che è umanità, quindi in tutte le sue variazioni. Affidato a una ricercatrice, al suo spessore, Laura Boella. Con il sostegno, perché queste cose non si fanno da soli, noi abbiamo un comitato per il festival, che comprende il comune di Carrara, la Camera di Commercio, l'Accademia di Belle Arti e la Fondazione Marmo. Una squadra che ormai lavora insieme da sei anni e ha acquisito un'intesa importante. In più, siamo riusciti a coinvolgere tanti sostenitori privati, che hanno progressivamente rinnovato la fiducia. Quindi abbiamo una serie di sponsor che vanno dal monte al mare e ogni anno aumentano. Questo ci aiuta molto nella programmazione. Ovviamente, senza dimenticare il supporto che sempre Regione Toscana e Provincia ci danno tutti gli anni. Infine il commento di Gea Dazzi, assessore alla cultura del comune di Carrara. Sicuramente Convivere offre la città di Carrara un'occasione importante dal punto di vista culturale in primis, ma anche sicuramente da un punto di vista turistico, quindi un'occasione per poter visitare la città. Tra l'altro il festival intercetta anche occasioni di questo tipo, perché sono previste visite guidate e visite ai nostri musei. Quindi alla diciottesima edizione possiamo dichiararci veramente soddisfatti del successo di questa manifestazione, che ci auguriamo possa continuare con tutto lo spessore di incontri, ma anche di occasioni di altro tipo. Quest'anno anche con un'inclusione, devo dire, a livello di istruzione. Quindi la scuola, i ragazzi, i giovani, i spazi per bambini, quindi è davvero un'occasione che incontra il territorio tutto e che ci rende sicuramente orgogliosi come amministrazione e come cittadini. Il cantiere della meraviglia è questo il tema della terza edizione della manifestazione Scandici Open City 2023, una delle rassegne estive più importanti della Toscana. Così l'ha definita il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, erogiando la qualità della rassegna estiva promossa dal comune di Scandici. Sentiamo le parole di Antonio Mazzeo. Sono davvero felice di poter ospitare la presentazione di questa bellissima iniziativa, anzi, una serie di iniziative. Più di 160 Scandici, 27 associazioni impegnate, un programma costruito insieme al territorio, costruito dal basso, musica, cinema, danza. Tutta la cultura che si tiene per mano è un modo per aprirsi alla cittadinanza, un modo per ritornare vivi nelle nostre piazze, nei nostri cinema, in modo da parlare a pubblici molto differenti, dai ragazzi più giovani fino al mondo, penso, della danza, piuttosto che delle iniziative che possano davvero aprire Scandici alla Toscana. Quindi complimenti, complimenti all'assessore Sereni, complimenti al sindaco, all'amministrazione, complimenti alle associazioni per le tante iniziative e proposte. Davvero sarà una bellissima estate. La proposta di questa edizione è frizzante, fresca, allegra e soprattutto per tutti i gusti, ha detto il consigliere regionale Fausto Merlotti. È con grande piacere e anche con onore che partecipo a questa conferenza stampa, ho dato mano a promuovere e ringrazio il presidente del consiglio Antonio Mazzeo, l'assessore Claudia Sereni, il sindaco Sandro Fallani, quindi l'amministrazione scandiccese, perché la proposta di Open City 2023 è una proposta frizzante, fresca, allegra e soprattutto per tutti i gusti, cioè dai bambini ai più anziani sono tutti potenzialmente coinvolti in un'estate ricca di eventi e avvenimenti, ben organizzata, che coinvolge il territorio intero, le sue articolazioni, le associazioni, i circoli di Scandici, tutto. Dalla collina al centro città, alle aree più periferiche rispetto al centro, ma vive in un contesto in cui la cittadinanza avrà l'opportunità di spaziare nei gusti, dal teatro alla musica, ai concerti, alle rappresentazioni liriche, sinfoniche, tanta musica per ogni genere e quindi da questo punto di vista la felicità di abitare a Scandici, ma soprattutto di rappresentare un territorio, non solo Scandici, che arriva fino a Calenzano, dove ogni comune aggiunge quel tocco di qualità della vita che consente ai cittadini di poter dire sto bene in questo territorio, sto bene in questo caso a Scandici e potrò partecipare ad un'estate ricca di avvenimenti e di eventi. Grande entusiasmo anche per l'assessora alla cultura del comune di Scandici, Claudia Sereni, che ha illustrato il ricco programma. Il Cantiere della Meraviglia apre alla città e al pubblico una serie di esperienze varie nei generi, teatro, cinema, danza, ma anche cose sperimentali e nuove, come il Festival Queer alla Casa del Popolo di Vingone oppure le 12 ore di musica al parcheggio di Villa Costanza. Ci darà la possibilità di scoprire gli artisti, di scoprire il programma, ma anche di vedere in modo nuovo i luoghi della città. È una sorta di progetto che vuole un po' essere una chiave di accesso che guarda agli spazi in una maniera nuova, li rigenera, in maniera tale che appunto il visitatore possa vivere questa esperienza dove la creatività ci apre le porte di nuove emozioni e ci dà la possibilità, grazie allo spettacolo da vivo, di stare insieme tutta l'estate. Sono 160 eventi da giugno al 24 di settembre in cui un pubblico vario, bambini, famiglie, giovani e anziani potranno avere sempre qualcosa da vedere, uno spettacolo a cui partecipare tutte le sere. Si confermano i luoghi di riferimento, cioè il pomario del Castello dell'Acciaiolo che avrà una programmazione continuativa, nel pomeriggio al tramonto Nutida con i suoi ballerini e coreografi Under 30 delle più grandi compagnie italiane e straniele e la sera dopo il tramonto si apre l'arena estiva del cinema degli Amici del Cabiria. Poi ci confermano anche la loro presenza il Parco di Poggio Valicaia che ospiterà tantissime iniziative, quest'anno abbiamo Musart che arriva anche a Scandici e abbiamo per la prima volta un festival di musica elettronica con l'Asciutto oltre alla Nottola di Minerva e tantissime altre attività. Le novità più importanti, forse la novità, è appunto Villa Costanza, il parcheggio che diventa una location di musica dal vivo grazie all'opera di David Casini che nel 2019 ha fatto un'installazione sonora permanente grazie alla donazione di un grande amplificatore di Powersoft. Il resto è appunto la ville, anche il giardini come la villa di Vico ad esempio ed altre location che sono le nostre fattorie ad esempio quindi tutto il complesso delle colline grazie al jazz e alla rassegna Piavincanto. Sì, gli omaggi sono tanti, sicuramente l'omaggio a Calvino emerge da alcune proposte come quella di Paolo Endero o di Ciro Masella, c'è un omaggio anche a Leo Ferré di Anna Maria Castelli e poi anche Dino Campana che è un nostro scandiccese quindi anche su questo La Rocca ci farà una serata musicale in piazza proprio vicino all'Abbazia e poi abbiamo anche Don Milani che chiaramente è una ricorrenza importante all'Arca Azzurra all'interno della Badia di Settimo farà un omaggio al grande educatore. Torniamo anche nel carcere di Sollicciano, ormai è un rapporto continuativo per noi fa parte della nostra città, è importante valorizzarlo non solo andiamo con due spettacoli a settembre al loro interno un concerto di tempo reale con i detenuti e uno spettacolo di archetipo che è appunto uno spettacolo ironico proprio su una storia di furti e di detenzione ma anche permetteremo ai detenuti in libera uscita di frequentare gratuitamente le serate di tutto il programma di Scandiccio Pen City.